Le metaturistiche di indiscusso a PIL lo confermano i dati annuali del 2019 relative agli arrivi e alle presenze, sia italiane che estere, all'interno dei sei comuni dell'Unione e che vedono la città di Faenza registrare, da almeno dieci anni, percentuali di crescita sempre crescenti. Un dato straordinario rispetto a un 2018 anomalo di grandi numeri, l'anno di Argillade, la più grande Argillade di sempre, siamo riusciti a fare meglio, a fare un passo avanti. Rispetto al 2018 abbiamo registrato un più 2,4 sugli arrivi e un più 4,2 sulle presenze, è un dato per noi fondamentale. Soprattutto siamo riusciti a centrare un grande obiettivo. Nel 2019 un terzo delle presenze turistiche sono di cittadini stranieri, dei quali i primi sono francesi, poi tedeschi, poi inglesi e poi russi, tutti cresciuti per la loro presenza. E cresce la presenza anche italiana, è il quarto anno consecutivo che Faenza e il comprensorio registra un record sull'anno precedente. Questo significa che il processo è strutturale, che tutti gli anni riusciamo a fare dei passi avanti. Questo io credo nasce dall'incontro tra diversi soggetti, c'è un gioco di squadra in atto, cresce il brand Faenza, il lavoro su Argillà, sulle relazioni internazionali, le nostre istituzioni culturali hanno seminato, stanno seminando, siamo riconosciuti e anche per questo che dall'estero abbiamo questi numeri.